Ciao 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 a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, video un po' disturbato dalla presenza della Kira, no? Ma lei viene solo a controllare con chi sto parlando e poi se ne torna al suo posto a fare la nanna. Allora oggi vogliamo fare del sano pettegolezzo, come diceva una volta Ezio Greggio, cronaca, stop, novella, express, più che notizie, spettegules, ma un pettegolezzo importante, un pettegolezzo reale. Oggi è lunedì 9 gennaio, si sono riaperte le porte delle scuole, dei negozi, degli uffici, delle fabbriche, sono finite le vacanze, si ritorna alla normalità e domani 10 gennaio invece uscirà finalmente questo libro scandalo del principe Henry, il secondo genito di re Carlo III. Mi fa una certa impressione dire re Carlo III perché io per tutta la mia vita ho avuto come immagine della corona britannica la grandissima Lilibet, la regina Elisabetta II e adesso invece abbiamo il re Carlo che è diventato re poveretto a 74 anni quando pensava di godersi la pensione, comunque chiudiamo questa parentesi. Ma parliamo appunto del monello Henry, il secondo genito che appunto sta pubblicando questo libro, le cui anteprime hanno già creato molti pettegolezzi e molti scandali in tutto il mondo per il contenuto veramente scoppiettante, fiammeggiante e molto molto tra virgolette violento nei confronti della sua famiglia. Allora il buon Henry critica la sua famiglia d'origine, critica il padre, critica il fratello maggiore dicendo che tra le altre cose una volta è stato preso per il bavero dal buon fratello William, eredeo al trono, che l'avrebbe addirittura gettato in terra ma si sa le liti tra fratelli sono ordinarie amministrazioni anche tra fratelli principeschi, almeno io lo penso così, si ritiene offeso dal fatto di essere sempre stato considerato come la ruota di scorta, di essere vissuto all'ombra del fratello che è destinato invece a diventare re un giorno. Però la cosa mi sembra quantomeno curiosa perché chi come me ogni tanto segue anche il gossip ma al di là delle notizie pubblicate sui giornali scandalistici però ne ha sempre parlato anche la tv ad esempio ma anche i quotidiani a livello nazionale il passato di Henry non è che sia poi così edificante a me stava pure simpatico sto ragazzaccio dai capelli rossi che ne combinava di tutti i colori perché chi più o meno si ricorderà certe foto uscite dove lui compariva a mezzo brillo si diceva anche che assumesse di tanto in tanto delle sostanze non proprio regolari delle foto in cui compariva una festa universitaria vestito da Hitler più che da Hitler da gerarca nazista insomma ne ha combinato un po' di tutti i colori questo ragazzi perché perché gli faceva comodo diciamo così non rispettare del tutto l'etichetta di corte proprio per il fatto che lui non era destinato a un futuro da re sì era come lui stesso si definisce la ruota di scorta però si sentiva forse più libero rispetto al fratello che insomma il fratello William destinato alla corona deve sempre seguire un'etichetta molto rigida un protocollo veramente infatti non si è mai visto né sentito nulla di scandaloso su William non solo adesso che è sposato il padre di tre figli ma anche quando era ragazzo al college all'università poi così nel suo futuro da adulto non si è mai sentito nessun tipo di pettegolezza nei suoi confronti mentre invece su Harry se ne è visti sentiti tra l'altro una delle ultime notizie fuoriuscite prima ancora appunto che della pubblicazione del libro di Harry Harry stesso nel suo libro racconta che durante l'occupazione in Afghanistan dove lui era andato appunto non so se penso come volontario sì ha dichiarato di aver ucciso almeno 25 talebani che per lui non erano esseri umani ma delle semplici pedine ora pur considerando che i talebani non godono della mia massima simpatia anzi perché sappiamo bene le atrocità di cui sono colpevoli però sono comunque esseri umani e nessuno si può sostituire a Dio dicendosi questo l'ammazzo perché tanto è una semplice pedina men che meno se sei un principe che dovresti dare un certo esempio diciamo è stata una dichiarazione fra le tante che ha fatto veramente secondo me di basso livello di bassa lega che lo fa scendere ancora di più come punteggio comunque una cosa vorrei osservare non so se sono io che sono pettegola all'infinito oppure magari qualcuno di voi la penserà come me avete notato da quando Henry è diventato così lui è sempre stato un ribelle vabbè però da quando si è rivoltato così nei confronti della sua famiglia che peraltro ha voluto abbandonare quando ha deciso con la moglie di trasferirsi oltre l'oceano e di in un certo modo rinnegare la sua famiglia adesso no adesso dice che è stato trattato male così ma appunto da quando lui è così da quando lui si è proprio rivoltato totalmente nei confronti della sua famiglia da quando si è sposato con la cara Megan è un caso? sarà vero o sarà falso? secondo me lui subisce tanto l'influenza della moglie però magari invece no è proprio lui che si è reso conto di determinate cose e ha deciso appunto di sputare tutto il veleno che covava in corpo e niente fatemi sapere voi cosa ne pensate in merito scusate se oggi mi sono lasciata andare un po' così al pettegolezzo la chiacchiera non proprio profonda però ogni tanto ci vuole un po' di leggerezza e il sale della vita ecco diciamo che se non ci fosse un po' di chiacchiericcio leggero non possiamo parlare di cose serie seriose e tutti i santi giorni che vita è e vi lascio adesso vi ringrazio sempre per avermi pazientemente ascoltato finora vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video ciao